Shakedown Hawaii Spetta al giocatore a ricostruire il proprio impero aziendale con ogni mezzo necessario, anche illegale. Investi i pedoni, ruba macchine, ruba case, ruba praticamente tutto ciò che si può e tutto in nome del profitto. Sono disponibili tre tipi di modalità di gioco, modalità storia, sfida arcade e modalità free roaming. In modalità storia si ottiene l'accesso a missioni che si comportano come un elaborato tutorial. Ci sono 111 missioni principali in cui affondare i denti con altre 15 missioni secondarie e 80 altre opportunità per smantellare le imprese. Ci sono anche fino a 415 proprietà da possedere. Nella modalità sfida arcade bisogna superare le sfide. Ogni sfida è a tempo e, in base alla vostra prestazione, si potrà guadagnare una medaglia di bronzo, d'argento o d'oro. La modalità free roaming vi permette di devastare in ogni modo il mondo di gioco. Si hanno fondi illimitati, tutte le armi e zero interesse alla salvaguardia del mondo che vi circonda. Non è possibile acquisire proprietà o attività commerciali e non è possibile salvare i progressi, ma si ha il permesso di divertirsi. Proprio come il suo predecessore, Shakedown Hawaii è un mondo colorato a 16 bit mostrato da una prospettiva top-down. Tutto viene accuratamente pixelato, ma molta attenzione è stata messa nei dettagli. Dalle linee lungo il lato dei bidoni della spazzatura alle buste che potrete raccogliere quando distruggerete le cassette della posta. Oltre agli edifici stessi, tutto il resto è distruttibile. Gli alberi, le recensioni, i muri e così via. E rimarranno anche distrutti fino alla morte del personaggio e al risveglio all'ospedale più vicino. Le persone, tuttavia, scompariranno poco dopo essere state uccise, così come qualsiasi oggetto che cadrà come denaro, armi e salute. Shakedown Hawaii si basa sulle fondamenta di Retro City Rampage. Mantiene il suo umorismo unico, la sua storia e l'azione frenetica. Un bel gioco che diverte ed è sicuramente un must play su Nintendo Switch. Un bel gioco che diverte ed è sicuramente un'unico, la sua storia e la sua storia è sicuramente un'unico, la sua storia è sicuramente un'unico. Grazie. Grazie.